ce l'abbiamo fatta siete riusciti a venire di qua buongiorno buongiorno aspettiamo qualche minuto così provo a salutarvi tutti insieme ciao buongiorno alena buongiorno a tutti ciao fra buongiorno vi siete svegliati avete fatto colazione io ho fatto tutto non ho mangiato tantissimo così possiamo saltare dai che piano piano state arrivando ero un po in ansia perché tantissimi mi avete scritto che c'era un po di confusione ciao pati buongiorno ciao silvia ciao vale buongiorno avete preso vero un asciugamano grande e il tappetino vero ciao danni buongiorno ciao fabi ti ho vista ieri fare yoga con charlotte ti è piaciuto ti ho vista ti ho visto nelle stories buongiorno gente buongiorno siete carichi io non vedevo l'ora di muovermi un pochino questa settimana non ho fatto tantissimo quindi sia oggi che sabato suderemo tantissimo ok volevo prima di iniziare intanto chiedervi se vi è piaciuta questa iniziativa pazzesca che ha preso freddi di fare ogni giorno un workout diverso così ogni giorno non avete adesso più le scuse di non muovervi perché tanto a me me lo chiedete da un mese ormai giù fai ogni giorno fai ogni giorno adesso freddi ha pensato a questa cosa quindi vi dovete allenare adesso sempre va bene ciao ciao silvia ciao cati tutti quanti buongiorno ancora un altro minuto poi iniziamo approfitto per farvi vedere i miei super leggings di oggi li conoscete sicuramente sono quelli che ti fanno il sedere super figo e veramente te lo fanno cioè si vede vero molto dare no era per dire che sono quelli che ti tirano il sedere tanto fuori cioè in alto li conoscete sicuramente vero questi leggings sono pazzeschi e se non ci credevate che fa questo effetto ve lo dico veramente che lo fanno quindi nei prossimi nelle prossime dirette ma si dai ci tenevo farvi vedere perché tanti e tante delle mie clienti mi dicono ma questi leggings veramente fanno questo effetto e io ve lo dico veramente ragazzi lo fanno quindi se volete avere il sedere alto basta acquistare nei prossimi giorni vi faccio vedere anche altri colori ok perché c'è gli arancioni neri a tutti i colori siamo pronti ciao cri buongiorno ti sei svegliata siamo pronti vero che mi state salutando tutti quindi vuol dire che avete fatto colazione leggera così potevamo possiamo saltare tanto avete preso l'asciugamano grande e anche un tappettino a posto iniziamo con il riscaldamento ok vado le gambe sono divaricate andiamo a fare tre respiri grandi in e fuori aria ancora in mi piace questo raggio mi piace questo raggio ispiro e fuori aria così si inizia bene la giornata ancora su tre due e andiamo una spalla alla volta tre due appoggiai appoggiai i palmi sulle spalle andiamo avanti anche dietro i movimenti pali grandi poi vedi in avanti anche dietro ancora tre ancora due ok stendi le braccia avanti apro e chiudo e vai due tre quattro ok su gomiti ben tesi andiamo già a sbloccare le spalle tre due uno e con il braccio destro rotazione grande vai vicino all'orecchio ancora due e cambia vai su su ancora tre due molto bene prendi i palmi dietro alla schiena chiudi le scapole apri bene il petto in ispiro ed ispirando guardano mi dico e tira l'ombelico dentro e stendi avanti ancora inspiro apri bene il petto ed ispirando ombelico dentro fuori l'aria e ritorno lascia adesso le braccia lunghe i fianchi andiamo a scendere lentamente destra a sinistra ancora e ancora andiamo con i palmi dietro alla nuca apri bene il gomito inspiro ed ispirando allungo in avanti ed ispirando ed ispirando ed ispirando chiudo avanti molto bene lascia le gambe aperte andiamo destra a sinistra per quattro volte e ancora e ancora e continua così ma a terra per dieci volte due tre quattro cinque sei siete scendi bene scendi bene vai 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 e fermati in centro piega le ginocchia goba la schiena ed abete dalla volta salvo inspiro e rotonda la schiena lascia la gambe tese rilassa il collo piega le ginocchia ed abete dalla volta salvo facciamo un'ultima inspiro e goba la schiena rotonda scendi la terra rilassa il collo piega le ginocchia ed abete dalla volta salvo molto bene andiamo con i palmi sui fianchi e andiamo a spostare il bacino lentamente destra a sinistra inspiro da una parte e se la parte opposta inspiro e espiro appoggia un palmo avanti e uno indietro fai inspiro qui ed espirando porto il bacino avanti in e espiro inspiro e espiro poi i palmi sono sui fianchi rotazione completa movimento grande vai a sbloccare bene il bacino cambia il senso me lo fai un'altra volta molto bene andiamo per 15 volte con i ginocchi al petto ci ricordiamo sempre che il riscaldamento deve essere sempre globale non importa cosa stiamo facendo lascia che noi facciamo un workout total body quindi per forza dobbiamo fare un riscaldamento per tutto il corpo ma in generale meglio sbloccare tutto starai sempre cioè starai sicuramente meglio ancora su 8 7 6 5 4 3 2 palmi sui fianchi rotazione grande parti bene davanti e apro vai 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 bene avanti ancora 4 ancora 3 2 lascia le gambe ben aperte ben aperte fuori sedere e lo facciamo per 10 volte 3 3 4 5 6 7 8 9 molto bene apposito i palmi in centro rilassa il collo e le spalle e andiamo su con il braccio destro e guardalo in alto e inspiro e fuori l'aria cambia inspiro fuori l'aria ultimi due in fuori l'aria ultima volta e girate adesso scendi spingi le spalle lontane sedi bene la gamba dietro e mantengo per ancora 4 3 2 cambiamo vai scendi con boccino schiena da dritta 4 3 2 saliamo lentamente facciamo gli ultimi 10 con i braccio d'amba opposta siamo a 3 4 5 6 7 8 9 vai su con il tallone prova a tirare non esagerando cambia e siamo pronti io sono pronta voi si anche salva la diretta ragazzi mi raccomando questa frase basta prendiamo l'asciugamano così com'è ok quindi fatelo anche voi un pochino doppio perché ci deve fare da tappetino per dire ok vi faccio vedere il primo esercizio dovrà essere spartiamo gambe unite lascia la mano dietro fai un affondo dietro appoggiando il ginocchio sopra ok appoggi il palmo in laterale ritorno in piedi facilissimo dai andiamo insieme passo il cane dietro appoggio il ginocchio appoggio il braccio subito alza la durissima ritorno e salvo sono 12 destra 12 sinistra andiamo in dinamico scendo 1 2 3 4 5 6 7 e ancora appoggio spingi ritorno salvo appoggio spingi le braccia ritorno attivi bene tutto il corpo per riuscire a trovare l'equilibrio quindi spalla in linea fuori l'aria inspiro fuori fuori l'aria siamo a 5 sali ritorno su e piano piano iniziamo già a sentire com'è lavora il flutteo della gamba ti spinge quindi questa gamba ancora ultimi 4 e salvo scendo salvo salvo ancora ultimi 2 spingi ritorno ultimi scendo spingo ritorno siete riusciti a farlo? mi metto davanti a poi magari meglio e dobbiamo cambiare gamba quindi se prima stiamo andati con la gamba destra ora con la sinistra andiamo insieme scendi appoggio sulla gamba ritorno e salvo passo grande alza bene la gamba ritorno attivando tutto il corpo scendo salvo ritorno su setterai l'addome forte attivo e le spalle in linea riuscirai a farlo fluido altrimenti perderei l'equilibrio quindi tutto il corpo allineamento corretto e via scendo salvo ritorno ritorno mi aiuto anche dal braccio salvo ritorno su scendo salvo ritorno facciamo ancora quattro spingo ritorno salvo ancora vai su ultimi due via via salvo ultima volta scendo 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 andiamo adesso a fare l'asciutamento lungo e dovrebbe essere più o meno così riuscite a vedere il mio? si mi sposto un po' più in qua eccomi e andiamo a fare adesso a cronometro 30 secondi di plank quindi andiamo giù da questa parte bacino basso con la destra avanti indietro per 30 secondi sposti bene in avanti destra destra quindi la destra fa e torna destra e destra 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 ancora stungiamo nel gluteo fai la retroversione del bacino e cambiamo via sinistra avanti indietro proviamo a non toccare ovviamente l'asciugamano ok su ancora mi sposto bene con i taloni in avanti indietro avanti indietro avanti indietro ancora gli ultimi quattro tre due un'ultima vai vai su e come era no? andiamo al terzo esercizio vai questo così com'è lo girate ok quindi si vede a posto andiamo indietro sono quattro saltelli con le gambe unite uno due tre quattro e quattro con una gamba quindi su uno due tre quattro di nuovo quattro insieme uno due e potete muovervi avanti indietro uno due tre quattro insieme se non riuscite a saltare fate dei piccoli movimenti destra sinistra se non riuscite ok? e vieni piedi ammortizza e usa bene le braccia ancora su 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 e cambiamo girati pieghi e vai uno due tre quattro una gamba uno due tre quattro vai avanti indietro su 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 una gamba due tre quattro vai hop 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 via ok ok ah i vicini non li lasciano saltare? dai che era leggera devi una cosa per tutti gli active people quando si saltano si deve sentire il rumore se usate tutto il corpo siete leggeri non pesanti in generale proviamo a essere leggeri non pesanti prendete il tappetino teniamo l'asciudamano lungo andiamo a mettere un minuto e andiamo a sdraiarci lo prendiamo così vai a sdraiarci porta le braccia in alto inspira porti le braccia avanti sulla gamba e resti uno due tre tocchi il palumento e saliamo con l'altra gamba ok? quindi una vertebra alla volta una volta alzi la gamba destra una volta alzi la gamba sinistra e un minuto andiamo uno due tre inspiro cambia damba uno due tre durissima la gamba forte uno due tre tocca dietro e sali uno due tre uno due tre inspiro e fuori l'aria uno due tre uno due tre rimani sulla vicino allo sostacolo ok? non salire tanto non sei seduto non sei seduto devi ispirare a terra ed ispirare quando sali inspiro e fuori l'aria ancora due fuori l'aria ultima volta e ce l'abbiamo fatta come era? come era? come era? voglio sapere se sei riuscito tu non c'era facile senza tappetino andiamo a fare di nuovo sul lungo in modo che apri idea quanto devi saltare all'inizio del mi metto di qua all'inizio dell'asciugamano braccia alte porto fuori sedere faccio un salto in grande e corsetta piego e devi saltare quanto è lungo l'asciugamano dieci quindici volte vai piego uno corri piego salto due piego amortizzo e ritorno fuori sedere fuori sedere e su ancora piego saltea tanto lungo 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 ritorno inspiro fuori l'aria e vieni ancora ultimi cinque uno sui gambe ritorno piego due se non riesci a saltare fai gli squat sul posto vanno bellissimo vai tre due ultima volta e ritorno questo era bellissimo ce l'avete fatto? cosa avete detto? borsa con la scuola ok giriamo e siamo arrivati alla pausa attiva un minuto in movimento avanti e indietro avanti e indietro ci spostiamo veloce vai 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 non tocchiamo e ritorno premo sulle braccia cambio vai avanti e indietro avanti e indietro vai 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 ritorno 30 secondi ancora 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 vai 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 avanti e indietro avanti e indietro ritorno non Gal avanti e indietro il bambino indo allora ancora, 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 ritorno, è un minuto finito, mini pausa, becchiamo e ritorniamo conto da capo, era un po' saltato questo circuito di oggi, la prima serie l'abbiamo già fatta, ora, dopo un secondo di pausa beviamo e rifacciamo tutto quanto da capo, poi lo state facendo, vero che lo state non guardate solo, ma lo state veramente facendo, benissimo, mi pianaccio, brava Meli, brava, però adesso prima di iniziare, ricominciare, sono morta, brava Argi, ottimo, vi volevo dire una cosa, quando si salta, vi volevo ripetere quello che vi ho detto prima, non si deve veramente sentire il rumore, chi si allena con me lo sta già, questa cosa, nel senso che lo dico sempre, non è che ti devi buttare a terra, che devono sentire tutti, ma devi veramente attivare tutto il corpo e usare tutti i muscoli, le articolazioni per non farti sentire, ok, quindi non ci sono le scuse, se salto mi sentono tutti, perché vuol dire che tu non stai eseguendo bene gli esercizi, per questo quando si salta, non dovete avere paura intanto, ok, se controllate bene i muscoli, non sono pericolosi i salti, soprattutto quello che abbiamo fatto oggi, non è che vi ho messo a saltare su un cubo esagerato, che ne so, quindi basta controllare, attivare tutti i muscoli, ovviamente ognuno in base alla sua preparazione fisica, se proprio non riuscite a saltare per vari motivi, ma poi ne parliamo perché i saltelli di oggi sono fatti bigli a tutti, io provo sempre a essere brava, a non fare delle cose esagerate, ma una cosa generale per tutti, quindi per favore attivate tutto il corpo respirato, fluido e proviamo a rifare tutto un'altra volta, vai, sono stata brava, dopo la pausa attiva vi ho dato anche due minuti di pausa statica, tutto quanto da capo, prepariamo il nostro tools e lo facciamo come era all'inizio, così, ok, non ci deve dar fastidio al ginocchio, ma ci deve aiutare, quindi mi giro direttamente faccia verso di voi, così è più facile andare insieme, andate con i piedi davanti, iniziamo con la gamba destra, braccio avanti, fai un passo grande indietro, spali linea, appoggio il ginocchio, attivi gli addominali, appoggio il braccio sulla gamba, gira la punta davanti, ok, ritorno, sono già attiva e mi aiuto, ancora, scendo, salgo, ritorno, su, scendo, salgo, ritorno, dai che questo è bellissimo, via, spingi, ritorno, salgo, scendi, via, ritorno, dai insieme a me, insieme a me, via, su, ritorno e spingi, tre, salgo, ritorno, ultimi due, e via, via, su, ritorno, ultima volta, scendi, salgo, ritorno, cambiamo gamba, vai, il primo lento, sali bene, attivo e spingi, vai, scendi, salgo, ritorno, scendi, ancora, su, ritorno, usa le braccia, avanti, su, avanti e mi aiuto, avanti le braccia, su, avanti le braccia, salgo, 4, su, ritorno, 5, ritorno, su, 6, salgo, ritorno, metti in 4, via, salgo, ritorno, 2, ancora, 3, su, le braccia, avanti e spingi, 2, su, braccia, avanti, ultima volta, scendi, salgo, su e stop, secondo esercizio, abbiamo la plank, sul lungo, ok, 30 secondi destra, 30 secondi sinistra, bacino basso, giù, e passi, avanti, inizio con la destra, sempre destra, e ritorno, destra, destra, provo a recuperare un po' di fiato qui, provo a respirare, attivare anche le gambe fortissime, e mi spingo in avanti, non un po' con l'accia da mano, ancora, continua, cambia, via, sinistra, sinistra, vai e torna, sinistra, e ritorno, bacio alto, respiro fluido, e forte sulle braccia, spalle lontane dalle orecchie, e non inarcare la schiena, la cosa più importante, ancora 2, ultima, ok, mancano i saltelli adesso, 4, gambe unite, 4, single leg, andiamo a vedere, qui, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora, 1, 2, 1, 2, 3, 4, e via, 1, 2, sulle braccia, su, aiutati, via, 1, 2, 3, basta, tengo finito, prendiamo il tappetino e andiamo a terra. Ora, questo l'ho messo apposta, questo esercizio che dobbiamo fare adesso, in modo da prendere un po' di fiato, ok? Quindi, andiamo a sdraiarci, lascio la mano, mi sdraio, un minuto, braccia altissime, e via su, 1, 2, inspiro, fuori, 1, 2, in, 1, 2, allunga le braccia, stringi il gluteo, e ritorno, stai, e scendo, stai, dobbiamo cambiare le gambe, ok? Destra, sinistra, espira quando sali, inspira a terra, fuori l'aria, inspiro, fuori l'aria, ancora, e fuori, continua, 3, inspiro, 2, ok, lascio, bene, adesso, dobbiamo fare il salto allungo, quindi, prendiamo una misura qui, dall'inizio, fino alla fine del, dell'asciugamano, deve essere così lungo il mio saltello, piego, fuori sedere, mi aiuto dalle braccia, molto importante, le braccia dietro, carico il movimento, ammortizzo, e corri dietro, andiamo a vedere, via, 1, 2, 3, 4, via, 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 fuori sedere, ammortizza, ti ricordo se non riesci a farlo, fai sul posto, e scuola, vai, 6, 7, 8, 9, 10, facciamo solo due ancora, vai, ultima volta, finisci, 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 ok, mettiamo, lascia la mano girato, un minuto, la pausa attiva, avanti, e indietro, vai, usa le braccia, e proviamo a non toccare la scena mano, e ritorna, usa le braccia anche qui, sempre, ancora, vai, 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 via, 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 ancora, da un piccolo sforzo, e poi facciamo una pausa, via, respira, e su, respira, e su, respira, e su, via, via, va, ancora, un minuto nessuno si ferma fino alla fine fallo piuttosto lento ma non ti fermare altrimenti non sei un vero active people stop io sono come te rossa bene come sta andando? bene 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 siete riusciti a fare tutto? fermata basta ok va già bene hai fatto due serie va benissimo un passo alla volta non dobbiamo mai strafare basta ascoltare il corpo e andare un passo alla volta hai già ti sei già mossa? adesso provo a respirare un pochino e si riesce a fare un po' di stretching così sei a posto noi invece dobbiamo fare ancora due serie di un altro circuito va bene? Rebe come sta andando? meno male che dite che siete morti perché anche io sono stanchissima e sono super felice ci stanca nel senso affaticata il primo esercizio del secondo circuito è un po' più tranquillo così abbiamo tempo di respirare un pochino ok? quindi abbiamo ancora qualche secondo però dovete girare l'asciugamano lo teniamo così mi giro meglio così verso di voi esattamente provate a bere ci dai la carica sono contenta taloni con una punta quando stai? si atterra con i talloni o con la punta? i talloni no? si atterra con le punte ok? quindi devi spingere con la punta e si deve ammortizzare sempre non si atterra mai gambe tese ma sempre come una molla e si deve non usare tanto le braccia spesso mi dite quando vi quando facciamo le dirette insieme mi dite che che vi parlo come se io vi vedessi si perché io vi vedo perché io perché ci lavoro con 15 persone al giorno almeno quindi so quali sono gli sbagli che fate ok? so che non usate le braccia so che non tenete le spalle in linea e per questo perdete sempre l'equilibrio quando si fanno le cose quindi spalle sempre in linea attivo gli addominali e ammortizzo e uso le braccia va bene? vai che iniziamo abbiamo il primo esercizio partiamo tutti dalla destra faccio un passo grande e ritorno con il ginocchio al petto passo grande ginocchio al petto non devo toccare facciamo 12 destra 12 sinistra vai 1 2 usa le braccia prova a copiarmi 3 scendo 4 scendo peso in centro 5 peso in centro non ti spostare destra a sinistra non fiedere le ginocchia apro le ginocchia all'esterno apri il petto scendi bene e spingi dinamico scendi in centro molto importante peso in centro 6 2 scendi resti qui 1 2 giù le spalle giù le spalle dovete stare così e con le spalle basse attivando tutto il corpo non questo ok ho questo 4 3 2 saliamo con l'altra gamba 1 passo 2 copia mi usa le braccia insieme a me in spingi in fuori l'aria inspira fuori l'aria uso le braccia spingo scendo spingo ancora 5 fuori 4 scendi bene scendi bene scendi spingi scendi ultimi due ultima molto bene ok peso in centro questo e parapesco un minuto ok ve lo faccio con calma prima scendiamo a terra in plank salt pelo plank salt pelo quando scendete in plank bacino basso e gambe tese perché scoccia che fate una cosa così no gli atti di vivo devono essere tutti bellissimi vai scendo in plank salgo carico e via carico il tuo salt pelo e via un minuto così vai salt pelo usa le braccia via e per un minuto non ci si ferma vai hop scendi se non riesci a saltare fai un passo tranquillissimo da una parte all'altra non devo per forza saltare provo solo a darmi da fare ultima un minuto questo è uno dei miei preferiti a me piacciono i movimenti dove si usa tutto il corpo mi annoio se sono delle cose statiche ok il ponte prendete il tappetino mi metto così ok questo lo mettiamo davanti scendiamo dove sono? sono qua ok sempre un minuto andiamo nel ponte a sdragarci ok quindi i piedi sono vicini al tuo asciugamano il sedere vicino ai talloni mi sdraio ok le gambe paralleli al di fianchi braccia lungo i fianchi alza il bacino stringi il gluteo passi avanti e indietro senza toccare l'asciugamano cambia sinistra ok sempre sinistra vai sinistra cambia destra destra e non tocco la mano destra sinistra adesso sinistra e sai sinistra e sai destra su e ritorno sedere sembra alto uh e andiamo con la sinistra su e ritorno su e ritorno destra vai vai su su via via vuoi strano la sinistra via vai su bacino ancora su ritorno e scendo va bene la prossima volta prendo un'asciugamano più sottile questo mi voleva imbrugliare perché io sono stata brava ho alzato bene il bacino ho alzato ho alzato le gambe non è colpa mia voi l'avete fatto è carino questo basta spingere sempre poi in alto ora molto bello questo esercizio che dobbiamo fare adesso quello che vi prego saranno dei saltieri da una gamba all'altra a toccare il pavimento guarda la mia schiena com'è dritta non questo ok quindi fuori sedere molto importante fuori sedere mantini schiena dritta e tocco terra alza la gamba per poter trovare l'equilibrio andiamo insieme ok quindi 15 volte alza la gamba sinistra saltegli tocco terra e ritorno tocco terra vai 3 4 5 6 alza la gamba 7 ammortizza la gamba d'accoggio 8 piega 9 10 5 4 3 2 ok questo se lo fate bene insieme a leggins il vostro gluteo si farà vedere sempre di più ovviamente se prendete questi leggins si vedrà ancora meglio però dovete fare tutti questi esercizi ultimo esercizio di qua tappetino ok mi metto meglio così asciugamano uffa uffa questo così bene meglio che mi metto qua meglio così bene le braccia sono divaricate un po' oltre il livello delle spalle quindi un po' più aperte guardo sempre il pappimento non si alza il mento stringo il gluteo attivo la parte centrale del corpo guardo giù salvo tocco il petto e ritorno salvo tocco il petto e ritorno ancora su tocco il petto alza anche le gambe quindi salto tutto guarda giù e ritorno il petto devi salire da terra sali e scendo ancora tre tocco allunghi i scegli due chiudi le scapole quando vai dietro adesso chiudo le scapole salgo e scendo ok arriviamo solo un secondo qui fronte a terra proprio un secondo perché siamo pronti adesso per la pausa facciamo un pochino di pausa però ancora adesso lascialo sul lungo ok sul lungo avete visto quante cose si possono fare con l'asciugamano poi sapete che io sono molto inventiva quindi possiamo andare avanti fino a domani andiamo a saltare vai su 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 avanti indietro via 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 ancora 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 usa le braccia come ti pare basta che ti muovi e sei dinamico nel movimento e ovviamente non toccare secondo me io se tocco mi rompo il naso perché scivola tantissimo spostate il bagno indietro vai ancora e respiro respiro vai vai ancora 8 7 6 5 4 3 2 e ce l'avevo fatta come sta andando io sono morta ma sono troppo contenta perché io ho mangiato il cioccolato oggi si sente tutto mamma non è vero non ho mangiato il cioccolato mia mamma mi sgrida sempre perché dice che non mangio le sue cose che prepara lei ma che mangio schifezze invece no bravissima ciao Lori anche io sono sudatissima ragazze manca ultimo ok abbiamo tempo siamo in super orario quindi piccolo sforzo e finiamo la grande ok potete gridare anche voi come faccio io a me mi dà carica e mi fa sciogliere un po' di tensione quindi ormai i vicini li avete già disturbati con i salteli fate anche qualche grido così se devono venire vengono almeno per un motivo valido ok siamo pronti? non riesco ad attivare gli addominali ecco ecco questa e ce ne andiamo veloce ai miei active people do questo esempio per attivare l'addome prova a pensare che ti do un pugno nello stomaco cosa fai? fai questo no? quindi tu sei molle e quando uno ti dà un pugno cosa fai? attivi l'addome cioè prova a pensare ok sei sdraiato e ti cade un peso sull'addome cosa fai? mica ti lasci molle fai questo ok? ci siamo capiti? io do questo esempio alcune l'hanno capita anche a voi ve lo darmo dirò un po' più spesso quindi magari provate quando siete da soli a lanciarvi delle cose sull'addome così vedete se lo attivate ultimo basta che parliamo perché manca un'altra serie su abbiamo lascio la mano così ok? sullungo perfetto 12 destra 12 sinistra gambe unite peso in centro ginocchia non questo lavoro apri bene peso in centro braccia fuori sedere quindi fuori sedere inspiro e fuori l'aria 1 6 2 6 3 6 4 inspiro 5 ancora 6 provate ad espirare qui a prendere un po' di energia per i prossimi stai vai 9 peso in centro usa le braccia inspiro fuori l'aria ultima respi 1 2 giù le spari 3 respiro 4 scendi bene 5 6 7 8 9 cambiamo la gamba 1 usa le braccia scendi 2 scendi bene 3 e scendi 4 inspiro 5 ancora 6 via spingi di navigo 7 8 inspiro fuori l'aria 9 ultimi 2 ultima scendi bene spingo ok ora abbiamo la plank dobbiamo scendere metto un minuto e andiamo giù 1 2 piega le gambe e salta 3 se non riesci a saltare fai un passo 4 4 vai non devo contare perché c'è il tempo ancora giù sedere bacino basso stendi le gambe non inalcare la schiena però su cavolo questo momento mi sembra più lungo di quello di prima secondo me il cellulare fa scherzi ancora su però faccio vedere che siamo fortissimi che abbiamo tantissima resistenza ultima ecco ce l'abbiamo fatta andiamo avanti con il ponte vai quindi assi che te già basti ancora ma che sta andando quindi siamo qui vicini andiamo con il bacino alto non dobbiamo più toccare il sedere a terra spingelo bene in alto gamba destra fa un passo avanti e destra ritorna destra avanti e destra ritorna sinistra uno e sinistra sinistra avanti sinistra ritorna destra su su via ancora cambia subito le gambe subito le gambe vai non tocchiamo come ho fatto io ancora su su cambia non appoggiare il sedere spingi e deve essere fortissima ancora ultimi cavolo ultima ho fatto un pasticcio vediamo su 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 uffa ho toccato un po' di volte mi punisco dopo per aver fatto questo ok cosa manca il saltello su una gamba con la schiena dritta ok andiamo a vedere quindi 15 volte da una parte all'altra andiamo a vedere scendi tocco scendi tocco 3 4 5 6 farlo con calma salpire alza bene le gambe dietro e schiena dritta ammortizza la gamba d'appoggio e via ancora 5 4 3 2 ok manca un ultimo tappetino andiamo avanti ok qui braccia un pochino più aperte dei livelli delle spalle attivano tutta la parte centrale del corpo guardi il pavimento andiamo insieme 1 2 3 via sali il petto chiudi i vici non chiudi le scapole guarda il pavimento e ritorno palo lento su ancora sali e scendi sali tocchi il petto non alzare la testa guarda sempre giù aggiunghi bene le braccia e ritorno ancora 3 stendi i gomiti usa bene tutto il corpo esci dalla zona di comfort stendi ultima sali stendi al massimo e ritorno andiamo un secondo con il sedere sui taloni respiri proprio qualche secondo mandiamo ad allungare un po' il tratto lupare saliamo manca un ultimo minuto per la pausa attiva per favore stendi bene l'asciugamano non inciampiamo e proviamo a non toccarlo ecco per questo dobbiamo alzare bene le gambe per questo vi dico non toccarlo perché dobbiamo usare bene bene il corpo abbiamo tutto il tempo 3 2 1 vai veloci 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 andiamo a usare bene anche le braccia ok? mentre le facciamo e respira ancora e se voglio posso usare le braccia come ci pare ok? anche tese anche avanti qui vi voglio vedere veramente perché la coordinazione non è facilissima le gambe fanno una cosa le braccia un'altra ma in parte vi voglio vedere su questo esercizio tu fai così guarda fai vedere questo ancora 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 5 secondi finito grazie che ci stai ho bisogno di un assistente che mi fa un po' così adesso Charlie non c'è oggi l'avete visto nelle stories di ieri preferisco sempre l'assistente di cui vi dico sempre Moro occhi verdi cioè pensate che figata tu finisci poi stai così non fai niente e lui che ti fa così cioè non lo so siete d'accordo vero? perché se lo trovo io lo mando a tutti voi tre minuti a testa perché scusate deve stare con me di più per me un'ora e per voi tre minuti a testa però sapete che a me non dico altro va bene così poi la manica mi sgrida se dico altro però questa cosa della questa cosa del dell'assistente Moro occhi verdi secondo me può piacere a tutti tutte a tutti no a tutte sì tanto così non ci dobbiamo più asciugare a fare cecire sta qua vicino con i fazzoletti ok due minuti di allungamento vai nell'attesa dell'assistente ci diamo da fare da sole andiamo a vedere potete usare sempre l'asciugamano o il tappetino va benissimo ci mettiamo in quadruppi via niente gioca abbiamo due minuti non trovo neanche la canzone ok prima di tutto ci attracciamo con i taloni con gli stagliari sui taloni lasciamo le spalle lontane dalle orecchie e andiamo adesso a stendere le braccia avanti a stendere ispirando e ispiro ancora step avanti ispiro sali bene e fuori l'aria appoggiare qua l'interno e vai a ispirare e guarda l'ombelico ancora ispiro ispiro schiena neutra lascia giù le spalle andiamo su con il braccio sinistro guarda in alto ispiro e fuori l'aria e cambia ancora in ispiro porta la gamba destra avanti e andiamo a stendere la gamba dietro spingi le spalle lontane dalle orecchie proviamo attraverso il respiro a tranquillizzare la nostra respirazione provo a salire lentamente ad allungare le braccia avanti e a tirare la punta e a tirare la punta verso il naso rilassando il collo provo a piegare la gamba dietro e a ritorno andiamo a cambiare nella parte opposta scendiamo anche qui provo a spendere bene la gamba dietro a spingere le spalle lontane dalle orecchie a salire lentamente mantenere le anche in linea alza la punta davanti rilassa il collo piega la gamba dietro e stendi le gambe ritorna in centro